Dei 16 anestesisti risultati idonei nella graduatoria dell'ASREM, solo uno è già medico specialista. Gli altri sono tutti specializzandi, una differenza non solo formale ma anche sostanziale. Gli specializzandi infatti non possono sostituire in tutte le mansioni i professionisti che lavorano nei reparti. A sostenerlo il presidente dell'Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani, Emergenza Area Critica, David Dilello. Premesso che c'è la piena disponibilità a collaborare alla formazione dei medici specializzanti in questa regione affinché possa in loro crescere poi un senso di appartenenza all'azienda e quindi ad assicurare il turno e il necessario ricambio generazionale, va precisato che soprattutto per quanto riguarda la disciplina di anestesia e rianimazione, uno specializzando non ha una piena autonomia professionale ma deve essere sottoposto a tutoraggio e non può essere sostitutivo del personale di ruolo in possesso del titolo di specializzazione. Difficile pensare che questo possa risolvere la gravissima carenza di anestesisti e rianimatori che c'è negli ospedali molisani. I 16 medici sono risultati idonei all'avviso di valutazione per soli titoli pubblicato dall'ASREM a fine ottobre, dopo che il precedente bando, rivolto sempre ad anestesisti, era andato deserto, ma in sostanza, nonostante l'individuazione delle nuove figure, gli ospedali molisani rimarranno comunque a bocca asciutta, da qui la richiesta del presidente Di Lello all'azienda sanitaria regionale. Riteniamo che quindi va proseguito questo sforzo di assumere anestesisti rianimatori, quindi non si può accontentare di questo al momento.